Annunciare oggi che tra qualche anno forse i pugliesi avranno 5 nuovi ospedali non compensa il fatto che al momento se ne chiudono 21 senza che siano stati sostituiti da servizi di assistenza territoriale e questo il giudizio non solo del capogruppo regionale del PDL Rocco Palese espresso al termine dell'ennesima audizione in Commissione Sanità alla presenza dell'assessore regionale alla salute Ettore Atollini ai lavori pubblici Fabiano Amati. Le risorse come competenza sono disponibili da parte dello Stato dal 2008, dal 2008 ad oggi non hanno sottoscritto l'accordo di programma perché non sono state fatte le scelte, nel merito poi prima sono stati pubblicizzati fino all'infinito con il piano della salute e la legge 23 del 2008 che avrebbero realizzato 12 ospedali sull'intero territorio regionale e uno particolare speciale a Taranto. Ad oggi non si è realizzato nulla, riteniamo cioè che adesso scendere da 13 ospedali i 12 più quello di Taranto a 4 più 1 sempre a 5 ospedali senza cioè che ci sia la possibilità per il Governo nazionale per le vicende note di avere anche la cassa, ritorniamo a dire purtroppo ai pugliesi e alla Puglia che molto probabilmente siamo di nuovo davanti ad annunci e a un libro dei sogni. Ma se Palese definisce le nuove costruzioni ospedaliere un libro dei sogni, l'assessore regionale alla salute Ettore Atollini replica. Non è un libro dei sogni, ovviamente siamo ancora in una fase di programmazione, noi stiamo elaborando i documenti che saranno sottoposti alla valutazione MEXA cosiddetta della metodologia di valutazione EXANTE che è quella che in base alla quale il tavolo interministeriale approva, valuta positivo o negativo un piano di prefattibilità, quindi siamo ancora in una fase di studio di prefattibilità sulla base dei quali poi saranno sottoscritti gli accordi di programma che è la fase preliminare che prelude poi all'avvio delle gare, all'avvio delle gare per l'affidamento del progetto, quindi siamo ancora in una fase di programmazione sia pure molto avanzata. Una conseguenza invece quasi certa della spending review, ovvero del decreto taglia sprechi varato dal governo, è che la Puglia sarà costretta a tagliare ulteriori servizi. Per il vice capogruppo del PDL Massimo Cassano sono bastati due giorni di audizione in commissione di sindaci, medici, associazioni di categoria, sindacati, associazioni assistenziali ed ora il re è nudo e si è davanti ad una triste verità, il sistema sanitario regionale in fase avanzata di distruzione. Grazie. Grazie.